Sono in viaggio verso il centro recupero Laninna di Novello, i primi ricci catturati nell'area di Viadruento a Torino per essere salvati e trasferiti in luogo sicuro. Gli agenti faunistico ambientali della città metropolitana di Torino hanno posato sul terreno, che in decenni di abbandono si era trasformato in una sorta di habitat naturale, otto gabbie dotate di esche. I volontari del centro Laninna, con cui la città metropolitana ha firmato una convenzione, prelevano quindi tutti gli esemplari presenti nell'area per trasferirli in ambienti in cui gli animali saranno custoditi per il tempo necessario alla preparazione in vista del loro ritorno in natura. Speriamo di acchiappare tutti i ricci, ci vorrà un po' di tempo perché non è cosa facile, gli animali tra l'altro sono anche un po' spaventati, qui hanno lavorato le ruspe per un paio di giorni e quindi hanno buttato giù gli alberi. Il nostro intento è quello di prendere questi ricci e portarli al nostro centro. Quanti si pensa che siano? Da alcune stime fatte, dalla quantità di crocchette che mangiano, la differenza tra il periodo attivo e quando sono in letargo, si stima che ci siano una ventina di ricci, forse anche di più. Ci vorranno un po' di giorni per catturarli e anche poi per riabilitarli perché questi ricci vivono in una zona protetta, come potete vedere qui nel centro della città, quindi non hanno predatori e sono alimentati anche, sopravvivono grazie alle crocchette dei gatti. Quindi noi cercheremo poi dei posti adatti dove siano anche un pochino protetti, dove ci sia qualcuno che lascia per un po' di tempo del cibo perché si devono riabituare alla natura. Quindi una fase intermedia di riabilitazione, possiamo dire, e poi? E poi abbiamo già dei posti dove potremmo liberarli e quindi verranno liberati il prima possibile ovviamente perché sono selvatici e soffrono in cattività e con il supporto appunto di persone che lasceranno un po' di cibo per permettergli di sopravvivere. E saranno liberati in natura? Assolutamente sì, in luogo naturale e l'idea è anche quella di verificare che non ci siano altri animali perché anche quelli hanno il diritto di sopravvivere, quindi cercheremo anche di prendere quelli se possibile e liberarli.